Siamo con il preparatore dei portieri del Ponzacco, Stefano Volpi, seconda stagione qua a Ponzacco. Come hai visto la partita della tua squadra oggi che ha vinto 1-0 contro Rosignano? Stata una buona partita, giocata ad alti ritmi da parte nostra, anche loro hanno contenuto bene la partita. Siamo andati in vantaggio su un episodio un po' fortunoso perché il portiere loro, purtroppo, sono cose che capitano. Gli è scappata una palla, però al secondo tempo abbiamo avuto almeno quattro nitide occasioni per chiudere la partita. Una per bravura del portiere loro, altre tre per, diciamo, non abbiamo concluso bene nei 7,30 metri di porta. Però, diciamo, è andata bene così, abbiamo vinto meritatamente e va bene così. Ecco, parliamo proprio di portieri, che è quello che tu vivi quotidianamente. Cappellini, all'ultimo minuto, su una palla alta, è uscito sicuro e ha fatto solo la sfera. Hai avuto questo giovane a inizio anno da portare su perché è la sua prima esperienza in un campionato dilettantistico. Come vedi i progressi di questo ragazzo che domenica dopo domenica sta acquisendo sempre più sicurezza? Partiamo dal presupposto che parliamo di un 95, come del resto tutte le altre società che giocano con 95. Noi l'abbiamo prelevato dalla primavera del Livorno, ha già delle basi, delle qualità che gli hanno dato, diciamo, un ottimo insegnamento lì a Livorno. Però vedo che è un ragazzo che si impegna, è un ragazzo che lavora, ascolta i consigli e anche io noto questa cosa qui, come mi dici te, che migliora. Poi è aiutata anche da una linea difensiva diciamo abbastanza esperta, però ha fatto un buon gesto di coraggio, è uscito, ha fatto sua impresa alta. Non essendo mai stato impegnato durante 92-93 minuti prima, è un gesto, diciamo, che forse è di elogiare, anche perché un portiere che viene impegnato poco, essere sempre attento fino al 94esimo e poi parliamo di un 95 non è facile. Poi dietro di lui, apro una parentesi, ho anche un altro grande portiere, un 85, che è Gian Bruno, ragazzo umile, aiuta tutti, aspetta quando è il suo momento, che è chiamato in causa, ha fatto bene, per cui società mi ha messo a disposizione questi due grandi portieri, materiale, mezzi, lavoro con serenità, tutta la settimana con mezzi e linee guida e diciamo qui c'è futuro.